Salario minimo, approvate due mozioni, sono state presentate dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Adozioni, modificare la normativa, il Consiglio regionale chiede al Governo garanzie per tutte le persone idonee, anche a prescindere dal loro sesso. Buonasera e bentrovate a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato due mozioni relative a un argomento di stretta attualità, il salario minimo. Le due mozioni sono state approvate con il voto favorevole del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Sono state presentate una da Irene Galletti, capogruppo dei 5 Stelle e l'altra dal PD, prima firmataria, Ilaria Bugetti. Sentiamo le interviste. Per noi è una battaglia importante perché già in Regione Toscana nel febbraio scorso abbiamo approvato una legge che riguarda gli appalti pubblici della Regione Toscana ma anche degli enti collegati, quindi Estar, parchi regionali, che prevedesse il salario giusto ed attuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle aziende che partecipano ai bandi della Regione Toscana ci fosse un equo reddito dei propri dipendenti. Quindi questo ci sembrava il primo passo. Ancora oggi unica Regione in Italia aver fatto questo passo che era un'indicazione per le linee guida alla Giunta regionale. Detto questo il lavoro nostro si ferma per competenza a quel livello e abbiamo chiesto che al Governo facessero un passo in più. Il PD in questo momento si sta mobilitando non solo il PD ma con altre forze politiche e quindi ci sembrava giusto con quelle forze politiche che stanno condividendo questa battaglia di affiancare questo lavoro che stanno facendo in Parlamento. È un segnale di dignità anche perché la Germania ha innalzato la soglia del lavoro minimo a 12 euro ma è previsto anche che venga innalzato, parametrato a quello che è il paniere d'acquisto dei cittadini in un momento così difficile di inflazione. Quella è la base minima di partenza che non va a tancare poi i redditi, i lavori più alti che sono poi oggetto di altre contrattazioni collettive. Quindi questo riguarda i precari, le persone in difficoltà e lo sfruttamento del lavoro ma anche contratti pirata. Quindi c'è tutto un tema grande che noi riteniamo dignitoso ed è una delle nostre battaglie principali. Questa mozione risale al 2022 da quando abbiamo iniziato a intraprendere questa battaglia per il salario minimo orario che oggi appare sempre di più come una battaglia di civiltà. Per tutti quei lavoratori poveri con delle soglie di reddito che arrivano a 3 euro all'ora e quindi con delle cifre che non permettono neanche di sopravvivere al rincaro delle bollette, degli alimenti, di tutto quello che è il costo della vita. E ci ha colpito veramente il vedere le destre che non hanno votato o hanno votato contro a quello che è davvero un andare incontro alle tante famiglie che in questo momento non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Si parla di 3,6 milioni di lavoratori in Italia, in Toscana molti di essi sono persone che lavorano nel mondo nel settore del turismo come è stato identificato da IRPET ma ci sono anche tantissimi giovani, ci sono tantissime donne e spesso delle famiglie con un solo genitore. Quindi questo riuscire ad approvare il salario minimo orario significherebbe per tutte queste persone una boccata d'ossigeno e soprattutto veder riconosciuto il diritto costituzionale del primo articolo della Costituzione, del numero 36 che dice che il lavoro deve essere retribuito con un'adeguata quantità di denaro per l'impegno che la persona ci mette. Questa è una battaglia che va a tutela della qualità della vita delle persone non soltanto ma anche della dignità del tempo e della vita di tutte le persone. Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di non votare la mozione proposta dal Partito Democratico perché siamo in linea con quanto chiesto dalla Presidente del Consiglio Meloni. La Presidente del Consiglio Meloni ha detto in maniera chiara di non essere ideologicamente contraria al salario minimo, di condividere con chi è promotore della proposta per il salario minimo l'obiettivo finale del percorso che deve essere quello di migliorare il potere di acquisto dei salari italiani perché va superata l'epoca del salario a basso costo da cui stiamo uscendo con grande difficoltà, anzi stavamo uscendo con grande difficoltà prima di imbattersi nella crescita esponenziale dell'inflazione ma non è detto che il salario minimo sia l'unica proposta percorribile, l'unica strada percorribile. Il Governo italiano ha mandato al CNEL di elaborare altre proposte, ha dato 60 giorni di tempo al CNEL per elaborare altre proposte, i 60 giorni finiranno all'incirca ad inizio ottobre, prima della metà di ottobre. Non vedo perché non si debba aspettare di avere sul tavolo tutte le varie opzioni per poi poter scegliere quella migliore, ma che si fa? A dieci giorni dall'arrivo sul tavolo della proposta del Governo si porta in aula una mozione per sposare in maniera ideologica quella battaglia del salario minimo garantito. Il Partito Democratico l'ha fatta in termini per i quali ci siamo sentiti di astenerci unicamente perché non vogliamo bocciare in maniera aprioristica questa strada, potrebbe anche essere l'unica percorribile, a quel punto la sposeremo anche noi. Io oggi continuo a pensare che se in Italia ci fosse il salario minimo garantito già legge oggi alcuni grandi agglomerati economici, alcuni grandi multinazionali, alcuni grandi blocchi di potere economico che oggi sono costretti a ricorrere alla contrattazione collettiva nazionale, tra contrattazione collettiva nazionale e salario minimo sceglierebbero il salario minimo per guadagnarci loro alla faccia dei lavoratori, ma se poi uscirà fuori che il salario minimo è l'unica strada, va bene sposare quella. Potiamo contro la proposta dei 5 Stelle perché è un manifesto ideologico del Governo Conte e crediamo che il Governo Conte di danni ne abbia fatti talmente tanti che riproporli, oggi ci sembra una follia. Cambiamo argomento, è purtroppo cronaca recente il caso del pescatore ventenne morto folgorato sul torrente Archiano in provincia di Arezzo perché presumibilmente la sua canna da pesca in carbonio è venuta a contatto con una linea elettrica. Per questo numerosi consiglieri del PD, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, hanno presentato una mozione in merito all'adozione di misure per prevenire il rischio di folgorazione dei pescatori in prossimità degli impianti elettrici. L'atto è stato approvato con voto favorevole all'unanimità. Con l'inserimento di un emendamento proposto da Maurizio Sguanci di Forza Italia. Anche in questo caso sentiamo le interviste. Cosa occorre fare allora? Occorre sicuramente mettere in campo tutte quelle misure che servono per cercare di eliminare la vicinanza tra queste canne al carbonio che vengono utilizzate perché sono leggere, hanno grande resistenza ma anche hanno una grande conduttività. Questo ragazzo forse neanche ha toccato la canna che aveva a mano con i fili della corrente elettrica che attraversa il torrente ma forse si è addirittura creato quel fenomeno cosiddetto dell'arco elettrico che con una vicinanza ha provocato la folgorazione. Allora chiediamo che si intervenga presso il gestore dell'infrastruttura elettrica affinché vengano messe delle protezioni, vengano quantomeno messe tutte le indicazioni di attenzionamento perché non ci si avvicini a pescare in questi luoghi fino anche a vietare la pesca nelle more della messa in sicurezza tenendo le distanze di sicurezza proprio per evitare questi fatti. Tutto questo magari accompagnato da una promozione di informazione, di sensibilizzazione da portare avanti anche con le associazioni dei pescatori che ovviamente da questo punto di vista sono molto disponibili. Tutto quello che viene fatto in direzione di una maggiore sicurezza sul luogo di lavoro ma anche in genere sulle attività come le attività sportive troverà sempre il nostro appoggio e la nostra considerazione positiva. Mi chiedo però perché vi sia ancora una scarsa campagna di sensibilizzazione a riguardo. Non si può morire così andando a pesca, rimanendo folgorati semplicemente perché utilizzando una canna in carbonio. Mi sembra veramente inammissibile. Dovremmo investire pesantemente per la sicurezza. Quindi al di là delle mozioni di atti di indirizzo, cui abbiamo dato il nostro favorevole voto, dobbiamo metterci i soldi per aumentare la sicurezza. I cittadini devono vivere sicuri. La mia assoluta vicinanza ancora una volta alla famiglia di Giovanni Gabriele. Voltiamo ancora a pagina. Il Consiglio ha approvato a maggioranza una mozione per sollecitare il Governo e il Parlamento per modificare la normativa sulle adozioni. In particolare per prevedere la possibilità di adozione a tutte quelle persone che, a prescindere dal loro essere in coppia o singole o dal loro sesso, possano garantire capacità genitoriale, stabilità e accoglienza. Primo firmatario, Massimiliano Piscini, del Partito Democratico. È un testo che parte da un punto centrale, che è quello della condizione del bambino. In Italia la legge sulle adozioni, modificata nel 2001 e del 1983, prevede che, ad esempio, per i single siano consentite le adozioni solo per casi espressamente definiti come disabilità grave, minorazione psichica e quindi c'è un'adozione che non viene definita come legittimante ma come sussidiaria. Cioè ai single, alle persone non sposate, si dà questa possibilità soltanto in alcuni singoli casi. Noi partiamo dal centro, che è quello dell'amore verso il bambino. Secondo noi, visto che anche gli esempi, visti gli esempi dei maggiori paesi europei, dalla Francia, alla Germania, all'Inghilterra, alla Spagna, che hanno leggi più avanzate e che tutelano maggiormente il bambino e danno più possibilità di adozioni e ampiano la platea delle persone che possono richiedere l'adozione di un bambino o di una bambina, chiediamo, in quella impegnativa, che la giunta regionale si attivi presso il governo e presso il Parlamento per dare seguito a questo nostro atto che vuole ampliare la platea, dare condizioni di uguaglianza perché oggi ad esempio la cittadinanza italiana per un'adozione cosiddetta sussidiaria è un percorso molto diverso da quello per l'adozione legittimante e quindi anche tutte le adozioni internazionali che vengono fatte, perché in altri paesi si possono fare da parte di persone single, non possono essere considerate allo stesso modo rispetto alle adozioni cosiddette canoniche, quelle cosiddette regolari o legittimanti. Questo è secondo noi un vulnus ed è una lacuna della legge che risente secondo noi di un tempo nel quale è stata scritta e oggi va migliorata profondamente. In Parlamento ci sono proposte leggi in entrambi gli schieramenti che sia centrodestra sia centrosinistra che pongono questo tema, anche la discussione in consiglio è stata molto seria perché alcune forze dell'opposizione hanno votato e espresso anche pubblicamente il loro parere favorevole rispetto a questo testo, ma anche chi non ha votato questo testo ha rimarcato la serietà dell'argomento e la volontà di lavorare insieme per dare ancora più forza a questo tipo di di ragionamento che noi cerchiamo di fare, che è un ragionamento, ripeto, serio e che va prima di tutto a parlare del bambino o della bambina. Il tema delle adozioni è un tema complicatissimo, in Italia ci sono decine, centinaia, nel mondo milioni di bambini che non possono essere adottati per un mostro che si chiama burocrazia e che impedisce l'adozione. In Italia se un bambino viene solto alla famiglia d'origine e viene affidato ad un'altra famiglia che lo possa crescere perché magari la famiglia naturale non ha le possibilità o ha problemi di carattere legale, legato all'attività criminali, legato all'utilizzo di droghe, faccio degli esempi, viene affidato ad un'altra famiglia prima di poter arrivare a una vera adozione, questo bambino fa almeno tre passaggi, viene tre volte portato via da una famiglia e inserito in un'altra che non sempre è la stessa. A Roma il Parlamento, grazie anche a un impegno tra i primi firmatari di un parlamentare toscano, l'onorevole Letizia Giorgiani, sta lavorando a una legge per accorciare questi tempi. La priorità deve essere questa, poter fare adottare le decine, le centinaia di migliaia di bambini già nati che oggi non possono essere adottati per colpa della burocrazia, la mozione di oggi era altro, era un put purri in cui all'interno c'era anche questo principio condivisibile ma si faceva altro, si parlava del tema delle adozioni dei single che è un altro tema importante perché io non sono ideologicamente contrario al fatto che un single non possa adottare un figlio perché probabilmente ci sono single in Italia in grado di dare a un bambino preso in adozione una vita mille volte più dignitosa di quella che farebbe senza avere un'adozione alle spalle. Ma quella mozione lì era altro, era una mozione ideologica che serviva a portare sul tema, sul tavolo del dibattito il tema dell'adozione da parte delle coppie omosessuali che è il terzo tema, è un tema ancora. Allora noi non ci sottraiamo al dibattito, si può parlare di tutti e tre i temi ma non si provi ad utilizzare il tema delle adozioni che è un tema serio per parlare di adozioni per le coppie omosessuali, sono due temi differenti, si può dibattere su tutte e due, questa era una mozione che si fingeva una mozione per garantire un percorso di adozione più facile ma in realtà serviva a dire grazie al Partito Democratico apriamo alle adozioni da parte delle coppie gay, motivo per il quale Fratelli Di Sallio è votato contrario. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e l'appuntamento è tra sette giorni. Grazie a tutti.